Un incontro pubblico organizzato all'Advitorium del Parco perché non bisogna farsi trovare impreparati e così nello spirito del Comune già si comincia a lavorare al progetto L'Aquila Capitale della Cultura 2026. Obiettivo dell'incontro organizzato per questa mattina è stato quello di raccogliere i progetti da parte di istituzioni, enti e associazioni che vogliono fornire il loro contributo per andare poi a comporre il dossier che verrà realizzato per presentare la candidatura della città. Tra i presenti i professori Sacche Crociata che stanno partecipando alla predisposizione del dossier. Noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse e come da programma cerchiamo di coinvolgere il settore culturale urbano che poi animerà in un programma culturale che è dentro il dossier. Ricordiamo che il dossier ha una sua componente che deve essere fortemente radicata nella produzione culturale della città ma al tempo stesso aperta anche a interventi dall'esterno per proiettare l'Aquila in un contesto nazionale e internazionale. Ci sono dei punti cardine sui quali baserete il dossier immagino? Sicuramente ci legheremo ad un lavoro che è partito già tre anni fa e quattro assi della nuova agenda europea della cultura quindi il rapporto che la cultura ha con la salute e il benessere, con l'innovazione, con la coesione sociale e con le tematiche ambientali. Il punto diciamo di svolta più rilevante di questa candidatura è cercare di attivare un nuovo modello di sviluppo territoriale in cui una città media come l'Aquila diventa una capitale in grado di portare sviluppo ad un territorio molto più esteso che va a intersecare un'area che caratterizza il tessuto italiano che è quello delle aree interne dei piccoli comuni.